Voglio partire però di Giovan Paolo con il momento difficile che stiamo vivendo. Siamo davanti ad un'aggressione, quella della Russia sul Ucraina, un'aggressione che nasce da una scomposizione del quadro, del contesto geopolitico. Non esistono più le vecchie logiche, il mondo è cambiato e non ce ne siamo accorti? No, è semplicemente un passaggio di ciclo, semplicemente in mezzo ci sono le vite delle persone, da un lato e dall'altro, dal lato dell'aggressore, dal lato degli aggrediti. Però è evidente che c'è un passaggio di ciclo, il primo ciclo è finito con la guerra fredda, 89-90, si è creato un equilibrio, è evidente che la Russia, che più degli altri soffre questa cosa, più degli Stati Uniti, più della Cina, forse più dell'Unione Europea se ci sarà questo protagonismo, sostanzialmente dice, in questo modo tragico, c'è una guerra, Russia, aggressore, contro Ucraina, aggredito, ma in realtà c'è un dibattito che è sopra, che è, signori, 30 anni sono passati così dalla guerra fredda, io sono stato in recessione, in difficoltà, e cioè la Cina è diventata un ircocervo, il più grande sistema comunista capitalista del mondo, diciamo, e gli Stati Uniti hanno avuto le loro difficoltà, che possiamo andare avanti così? No, finito, come andiamo avanti i prossimi 40 anni? Questo è il dibattito politico. C'era di Giovan Paolo quella frase di Gramsci, il vecchio mondo è tramontato, il nuovo stenta a nascere. Siamo in questo interludio? Sì, con in più la difficoltà del fatto che i 30 anni che abbiamo vissuto dopo la caduta del muro, la fine della guerra fredda, sono stati vissuti con, diciamo, una certa irresponsabilità, immaginando che il mondo si sistemasse da solo.